Musica Educare alle differenze al di là degli stereotipi Manifestazione conclusiva questa mattina a Palazzo Baronale del progetto a proposito di genere che ha coinvolto associazioni, istituzioni e scuole del territorio Oggi raccontiamo la conclusione ma anche l'inizio di un percorso straordinario che ha visto per la prima volta insieme istituzioni, associazioni e la quasi totalità delle scuole di Tore del Greco perché hanno partecipato attivamente due istituti di istituzione secondaria di primo grado e secondo grado ma sono state coinvolte tutte le scuole di Tore del Greco con un percorso che è stato sempre molto partecipato da parte dei ragazzi abbiamo lavorato con il Degni Nicola Sasso e con il Degni producendo dei messaggi che poi abbiamo portato in giro negli altri istituti di Tore del Greco sono diventati oggetto di una campagna di comunicazione condivisa anche con la comunità di Tore del Greco e oggi invece consegniamo dei totem che rappresentano i principali stereotipi a volte anche con delle frasi provocatorie che lasceremo in dotazione alle scuole quindi come effetto moltiplicatore anche i ragazzi che non hanno partecipato alle nostre attività leggeranno, avranno la possibilità di essere solleticati da queste tematiche quindi quantomeno si porranno dei dubbi quindi diciamo questo è un piccolo seme per generare quindi un vero cambiamento culturale abbiamo scelto proprio due fasce d'età un po' particolare quella di primo grado dove i ragazzi sono prossimi al mondo delle scuole superiori e i ragazzi delle scuole superiori che sono prossimi al lavoro oggi sono qui presenti anche tutte le scuole del territorio perché volevamo appunto una risposta da loro a quello che noi abbiamo portato nelle scuole c'è stato un confronto, uno scambio di idee uno scambio di idee in crescita perché dico sempre loro sono il nostro punto di forza ma soprattutto sono loro che ci danno le idee giuste per affrontare la società educare alle differenze al di là degli stereotipi oggi qui a Palazzo Baronale si conclude un importante progetto che è visto coinvolte anche le scuole del territorio si parte dalle scuole ed è stato molto intelligente proporre ai giovani, ai giovanissimi qui sono presenti istituti comprensivi momenti di riflessione ma anche di costruzione di coscienza riguardo alle politiche sulle pari opportunità alle politiche di genere a che cosa significa parità reale come si contrastano e si combattono gli stereotipi che ancora oggi sono l'anticamera del pregiudizio nei confronti delle donne Rispetto a questi temi il ruolo e la responsabilità della politica? La politica ha grandi responsabilità e devo dire che noi come Regione Campania abbiamo costruito tante iniziative legislative a favore delle donne l'ultima in ordine di tempo la legge sulla parità salariale nella stessa legge abbiamo costruito incentivi misure quindi per l'incentivazione all'occupazione all'imprenditoria femminile e abbiamo voluto fare anche dedicare un articolo alla possibilità di un'opportunità di lavoro alle donne vittime di violenza cioè dare un incentivo alle imprese che vogliano assumere donne vittime di violenza Il nostro paese non può rinunciare non soltanto al punto di vista delle donne ma alla ricchezza che rappresentano le donne stesse È stata un'esperienza importante, bella, sentita, vissuta profondamente dalle nostre alunne che stamattina sono qui a dare la loro testimonianza È un progetto pilota e pertanto spero e penso che sarà soltanto l'inizio di un percorso di rieducazione e di sensibilizzazione al valore, all'identità e al ruolo della donna Io mi sento onorata e soddisfatta per il coinvolgimento del mio istituto questo progetto che ha visto coinvolti due classi dello scorso anno infatti una rappresentanza di questa classe, della terza B, è qui presente oggi a questo incontro La strada giusta è proprio partire dai più piccoli quindi sensibilizzare i nostri studenti e far capire che bisogna lottare sempre giorno dopo giorno contro gli stereotipi di genere Come i ragazzi sono stati protagonisti? Come sono stati coinvolti? Che tipo di attività hanno realizzato? Sono stati sensibilizzati non solo con la lezione frontale classica ma anche con dei giochi interattivi, giochi attivi, giochi d'aula e in effetti hanno partecipato attivamente a queste lezioni quindi sono stati coinvolti e sono state delle lezioni veramente interessanti che poi hanno prodotto anche degli elaborati hanno anche preparato uno spot quindi che è stato divulgato anche nel territorio La sua scuola continuerà a lavorare su queste tematiche? Insisteremo molto su affrontare questa tematica sulle pari opportunità ma anche contro la violenza sulle donne Grazie a tutti Grazie a tutti